Oroscopo del giorno, mercoledì 11 agosto 2021 Ariete Amore, questo mercoledì sarà tranquillo ma soprattutto tutto da sfruttare nei rapporti. Il fatto è che da domani le stelle non vi aiuteranno e potrebbero nascere terribili scontri con il partner o con qualcuno di vicino. Lavoro Molto interessante la giornata lavorativa, visto che Mercurio sarà nel segno e vi sosterrà. Toro Amore Venere sarà ancora in ottimo aspetto. Il periodo è decisamente buono per voi e per i vostri affetti. Sarà dunque una bella giornata, sia per le coppie che per i single che vorrebbero fare delle nuove conoscenze. Lavoro Da oggi finalmente avrete il favore di Mercurio. Potrete contare su un recupero, su novità e buone nuove. Gemelli Amore Questa giornata di agosto potrebbe essere un po' complicata. Potrebbero esserci degli intoppi da dover affrontare e non solo per le coppie che non funzionano. Arriveranno senz'altro dei momenti migliori. Lavoro Mercurio da questa giornata inizierà ad essere sfavorevole. Potrebbero cominciare ad esserci dei problemi sul lavoro. Cancro Amore La luna di questo mercoledì sarà in buona posizione e potrebbe riservarvi qualcosa di speciale e importante. Non dovrete lasciarvi sfuggire tutte le occasioni buone per le relazioni, per le nuove conoscenze, ma non solo per l'amore. Lavoro Ottima questa giornata, visto che tutte le stelle vi avvantaggeranno tra energie e progetti professionali. Leone Amore In questa giornata potrebbe arrivare qualcosa per i cuori solitari, ma anche per chi si è lasciato da poco. Potrebbe esserci infatti un nuovo incontro e magari potrebbe rivelarsi pure abbastanza interessante. Lavoro Energie al top con questo mercurio favorevole. Potrebbero esserci delle novità che vi piacciono. Venceranno Vergine Amore Questa giornata sarà caratterizzata da ottime stelle in vostro favore. Potrete contare su questo mercoledì di agosto per vivere delle emozioni veramente speciali e importanti con il partner o con una nuova conoscenza, se non avete una storia all'attivo. Lavoro Tanta forza e tante energie si uniranno alle opportunità da sfruttare. Tutto andrà per il meglio. Bilancia Amore Giornata senza troppe sorprese, ma anche senza troppi problemi per fortuna. Se le coppie saranno tranquille, per i single potrebbero esserci delle nuove occasioni. Occhio quindi ai nuovi incontri di chi non ha impegni. Lavoro Mercurio ancora in una posizione attiva per oggi. Il pianeta vi aiuterà con gli impegni di lavoro e le nuove idee. Scorpione Amore Miglioramenti ormai sempre più evidenti. State risolvendo certe faccende di cuore con la vostra dolce metà. I single saranno adesso più sereni e chissà che le emozioni non tornino in maniera prepotente. Non si possono escludere nuove conoscenze. Lavoro Sarete decisamente risoluti e dunque nessun intoppo vi causerà grandi disagi. Sagittario Amore Questa giornata potrebbe portare dei contrasti con il partner. Oggi potrebbero esserci delle discussioni con la propria dolce metà. Nemmeno il riposo sembra esservi d'aiuto. Pure i single potrebbero essere un po' agitati. Lavoro Potrebbero esserci degli scogli da superare. Non sarà un mercoledì così tranquillo sul lavoro. Capricorno Amore Per questa giornata di agosto avrete venere in posizione favorevole e per questo non avrete problemi nelle relazioni. Tutto andrà bene per le coppie ma la situazione sarà buona pure per i nuovi approcci di chi è single. Primi passi possibili. Lavoro Proprio da questo mercoledì le cose dovrebbero andare molto meglio di prima. Ci saranno pure delle occasioni nuove. Acquario Amore Anche se non ci saranno tutti quei passi in avanti importanti nella vostra relazione, con il partner avrete una bella giornata. Chi aveva avuto disagi nei rapporti ormai sta recuperando un po' di terreno. Lavoro Iniziano ad esserci i primi miglioramenti. Da domani finalmente potreste avere novità e soddisfazioni più importanti. Pesci Amore Venere sarà in opposizione ma nemmeno le altre stelle vi sosterranno in questo mercoledì di agosto. Un po' di pene d'amore saranno possibili. Meglio aspettare il fine settimana che dovrebbe portare dei miglioramenti. Lavoro Ci saranno delle difficoltà in ufficio con queste stelle contrarie. Non vi sentirete al top. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Ci saranno dei miglioramenti. Ci saranno dei miglioramenti. Ci saranno dei miglioramenti. Ci saranno dei miglioramenti. Ci saranno dei miglioramenti.